Stessa pandemia, ma esperienze molto diverse. È un'Europa a due velocità, quella fotografata da un recente sondaggio della European Council on Foreign Relations. I paesi del sud e dell'est Europa sono stati colpiti molto di più rispetto ai paesi scandinavi e la Germania. I danni presi in considerazione dallo studio includono sia l'aspetto sanitario che economico. La differenza più notevole è tra la Danimarca, dove il 72% della popolazione si reputa non colpita affatto dal Covid-19 e l'Ungheria, dove solo il 35% afferma lo stesso. In Italia quasi la metà della popolazione ha sentito gli effetti del Covid. Esiste poi un divario generazionale. Solo il 43% degli under 30 dice di non aver subito effetti negativi dalla pandemia. C'è un grande senso di rabbia tra i giovani. È stato detto loro che questa era una crisi che avrebbe colpito gli anziani, ma in realtà si sentono loro le vere vittime di questa crisi. I ragazzi sentono di aver subito ingiustamente grandi limiti alla propria libertà di movimento e stile di vita. In questa generazione sta montando un forte sentimento di antipolitica. Il rapporto indica anche che quasi la metà dei cittadini europei ritiene i propri governi responsabili della diffusione del virus. Molte delle persone che sono state colpite negativamente dalla pandemia accusano i governi di aver gestito male questa situazione. Che sia quello cinese o quello del proprio paese non importa. I governi o chiunque sia al comando, secondo queste persone, hanno fallito. L'Europa appare quindi ancora una volta divisa, anche davanti alla pandemia. Ma su una cosa sembrano essere tutti d'accordo. Quasi l'80% degli europei lamenta una perdita significativa della propria libertà.